Sono numerosi disagi legati al forte vento di queste ore segnalati sul territorio di Eboli. I maggiori danni si sono registrati a Santa Cecilia, dove le raffiche di vento questa notte hanno sradicato la copertura di un tetto di una palazzina in via Socrate, caduta su un'auto parcheggiata nei pressi. Sul posto si sono recati i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e predisposto la messa in sicurezza del tetto.